Simulavano di essere residenti nel nostro paese in modo tale da poter usufruire delle nostre prestazioni sanitarie. Ci sono voluti quasi tre anni di indagini da parte del nucleo di polizia economico-finanziaria di Alessandria per risalire a un giro di truffatori che hanno portato nelle loro tasche la somma complessiva di oltre 1.200.000 euro. 64 i cittadini rumeni indagati. In pratica queste persone affette da sordità anche grazie all'aiuto di terze persone fingevano di risiedere in Italia così da poter percepire gli emolumenti previsti per l'invalidità civile. Nel corso delle indagini coordinate dalla procura è anche stato accertato che due dei rumeni percepivano le indennità sia italiane che del loro paese. Gli accertamenti da parte delle fiamme gialle erano partiti dopo una segnalazione della locale direzione provinciale dell'Inps che ha poi collaborato fattivamente per l'esito dell'operazione ed hanno stabilito che il giro era in piedi dal 2015 anche grazie alla cooperazione internazionale che ha riguardato oltre 100 cittadini rumeni. In molti casi chi collaborava al giro era anche solito accompagnare i cittadini negli enti preposti per espletare le pratiche necessarie alla finta residenza. Il meccanismo ormai consolidato consisteva nella quasi totalità dei casi nel simulare la dimora effettiva, stabile ed abituale sul territorio nazionale requisito fondamentale per percepire legittimamente le indennità previdenziali mentre di fatto le risultanze comunicate dall'organo collaterale straniero e dai riscontri effettuati dai militari faceva constatare l'esatto contrario. Al momento non è stato possibile notificare l'avviso di conclusione delle indagini a diversi degli indagati in quanto sono risultati non reperibili in Italia ma nel frattempo l'erogazione degli emolumenti è stata bloccata dall'Inps.